Il giorno si risveglia e inizia il il recupero. Una vita nuova che l'ha portato fino qui, la gioia di rivivere. Benvenuto a Luigi Ferrarini accompagnato dalla sua mamma Gianna che sono già seduti. Ciao Luigi, benvenuto. Signora Gianna, benvenuta anche a lei. Naturalmente. Allora Luigi, innanzitutto grazie. Di cosa? Grazie a voi. No, grazie a te che hai accettato di venire a raccontare la tua storia. Ma io la racconto tranquillamente. Allora Luigi, 42 anni oggi, vero? Sì. All'epoca dell'incidente ne avevi 22, sono passati 20 anni. Intanto vediamo subito la copertina del tuo libro, io dicevo rivivere perché questo è il titolo, la gioia di rivivere. In questo libro tu scrivi, a bordo, eccolo qua, sì, ce l'hai anche in mano. A bordo di una Giulietta, io e alcuni amici ci siamo schiantati contro un platano. Ti ricordi? Cosa? Quel momento? posso dire una cosa? Tutto quello che vuoi. Io parlo così lento, non ce la faccio da capare i pensieri che passano nella mia testa a velocità normale. Ma noi ti sentiamo bene lo stesso, va bene così. Volevo scusarmi con il pubblico. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Raccontaci di quella brutta cosa vent'anni fa. Dove stavate andando? Un'altra cosa, devo salutare il mio amorucchio. Sì. E vabbè, che vuoi salutare il tuo amorucchio. E come si stavano? Allora, torniamo a noi. Ci racconti un po' che cosa, che ricordi hai di quel momento così terribile, Luigi? Dove stavate andando? Stavo venendo via da una discoteca e andavo nell'altra discoteca. Sì. Perché io sono uno incontentabile. Non ti bastava mai? No. E che successe, Luigi? Ricordo solamente due fari. Solo i due fari? E poi niente più? No. Per una settimana prima. Sì. E ovviamente. Solamente quella. Soltanto quei due fari? Poi il buio? Sì. Mamma Gianna, allora quando successe questo incidente, suo figlio entrò in coma, lei che cosa fece? Una distruzione immensa. Il pensiero di tutto quello che era accaduto che sembrava un sogno, ma un sogno che pensando e ripensando dovevo rendermi conto che era una realtà, non un sogno. Quindi i medici hanno dato poche speranze, anzi niente, perché si andava avanti giorno per giorno e aspettando l'esito, ma di esito non ce n'era, era sempre in coma, in coma, in coma e sono passati due mesi di questo lungo coma. Poi pian pianino si è risvegliato, pian piano, 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 proprio e l'hanno messo in una camera intensiva, ma sempre non parlava con gli occhi chiusi, però insomma a un certo punto tutte le mattine passavano i professori per visitarlo e a un certo punto quando i professori sono usciti, loro mi avevano sempre detto di tenere le cuffie con i voltman per darle musica, per parlarle continuamente, io le ero dosso tutto il giorno proprio dal mattino alla sera, perché mi dicevano provi a stimolarlo, continuiamo, vediamo. A un certo punto lui mi ha fatto un cenno così perché l'ho detto, Luigi, perché ho visto i suoi occhi che giravano all'interno, mi sembrava che una cosa strana che non avevo mai notato, a un certo punto le dico, Luigi ma mi senti? Se tu mi senti muovi un dito, lui era con le mani così e a un certo punto mi ha fatto così, allora io sono corsa fuori dal professore, che mi ha detto, ma professore, professore, Luigi si è svegliato, loro mi hanno fatto scosso un po' la testa, come dire, questo è pazza, mi ha detto venga signora andiamo, vengo a vedere io, sono venuti a vedere e hanno fatto il stesso gesto che ho fatto io, Luigi si era svegliato, allora hanno fatto una grande festa, chiamare tutti i dottori, Luigi si è svegliato, è stata una cosa proprio rinata in quel momento, poi lunghi anni di percorso. 20 anni? Sono lunghi. Sono lunghi, eh? Lunghi, faticosi per la diabilitazione, è vero Luigi? 15. Allora intanto facciamo partire delle immagini, mentre partono le immagini girate da Amedeo Vicinelli e tratte dal programma racconti di vita, eccole qua, che ha proprio voluto raccontare la tua vita, la tua... Lui è stato 15 giorni là da noi. Ecco, allora Luigi, prima una domanda volevo farti, tu di questi due mesi di coma, di questi... tu non ricordi nulla? No. Naturalmente tu non ricordi nulla. Di questi vent'anni, se dovessi provare in una parola a riassumere questi vent'anni così duri, Luigi, che ti viene in mente? Costanza. Costanza? Eh sì, tanta costanza. Eh, perché ci vuole tanta forza e tanta costanza, eh? Lo hai voluto con tutte le tue forze, naturalmente. Per me, per me è una cosa innata, se lo faccio l'impiede... Qui dove sei? In spiaggia Marina Di Carrara. Marina Di Carrara, ci godiamo la vita lì, eh? Sì. Allora, signora Gianna, tra l'altro, qui lo abbiamo visto in... eccolo qua nuota, fa un sacco di sport, Luigi. Sì, tanto, tanto. Cos'è che non fa? Perché li fai tutti? Niente, fa di tutto. Fa il cotutismo. Ah. E poi? E poi l'ho fatto di quello. Ha fatto anche quello, in Thailandia, sì. Senti, ma è vero che fai teatro? Come no? Ho fatto teatro per la casa dei svegli di Luca De Nigris, il quale direttore di Fugio mando un saluto anche il Presidente. Padreste. Ti ho anche visto recitare io, insieme agli amici di Luca. Sì, sì, eravamo in teatro, che ci ha ceduto... A Bologna, a teatro delle celebrazioni. Sì, sì. Poi io so che fai un viaggio ogni anno. Ma quante cose sai! C'è un uccellino che ti racconta. È vero? Sì. E perché viaggi così spesso? Viaggio spesso perché viaggiare è cultura. Io a scuola non è che ero un granché, perché la mattinavo sempre. Per andare in discoteca? No, per andare in giardino. Ah, tu andavi in giardino, andavi a scuola per andare in giardino. Sì. E quindi dopo da grande hai detto voglio viaggiare. So che hai visto tanti paesi. Sì. Qual è quello? Ce n'è uno che ti è piaciuto in modo particolare? Io sopra dove sono andato. Lì sono tutti in fila. Non mi devo interroppare perché se mi interroppi mi dimentico non ricordo più. Sto zitta, sto zitta. Promesso che sto zitta. Canaria, una settimana, tutti gli atti che ti darò sono di 15 giorni. Ok. Canaria, Kenya, Santo Domingo, Jamaica, Tailandia, Martinica, Mexico, Indonesia, Cuba, Bali. Sono tornato tre anni conciuti a Santo Domingo, il Basile due volte, Zangelo, le Maldive, la Crocella e i Carepi e l'ultimo viaggio di cui sono fresco e maldito. Beh, non ho parole. Vince, mi pare di capire, Santo Domingo tre a due più o meno col Brasile, insomma, ha vinto Santo Domingo. È vero signora Gianna che Luigi ha imparato l'inglese, sa l'inglese, vi fa da interprete quando viaggiate? Sì, 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 perché noi non sappiamo l'inglese, di conseguenza viaggiando bisogna saperlo. Ho acciccato anche questo, hai visto? E lui proprio quando ha cominciato a parlare, che non parlava, non apriva la bocca, praticamente lui, memoria, intelligenza, comprensione è rimasta intatta, aveva battuto nei coordinamenti, ha perso le cellule. E di conseguenza lui ha dovuto ricominciare da capo, quindi doveva parlare. Aveva una parete nella parte destra, che corrisponde alla sinistra. Infatti il colpo di fusta non l'ho preso in avanti come il ticciolto, l'ho preso di fianco, ho scosso la testa così come il cote. Signora Gianna, nel ringraziare i medici della Casa dei Risvegli Luca De Migris di Bologna, il centro di riabilitazione e ricerca sul coma che è all'avanguardia in questo campo, pensiamo alle mamme che vivono il dramma di un figlio in coma e che magari in questo momento ci stanno guardando, che cosa senti di dire a queste mamme? Ma sento di dire, di incoraggiarli come ho fatto la settimana scorsa, che ci sono stati due spettacoli, due sabato e due domenica, dentro lì alla Casa dei Risvegli. E tra l'altro abbiamo conosciuto un ragazzo giovane che mi sembrava di vedere mio figlio, un ragazzo di 18 anni, Alessandro si chiama. E questo ragazzo, sono entrata a salutarlo, perché l'avevo già conosciuto la settimana prima, lui a lobby dei cappellini, Luigi le ha portato un cappellino. E allora non c'era la mamma che era uscita e siamo stati lì a parlare, Alessandro guarda, guarda, dicevo ti ho portato il cappellino, lui il ragazzo tiene quasi sempre gli occhi chiusi e ho detto apri quegli occhi lì che sono bellissimi. Allora lui me li ha aperti, ti hai visto il cappellino? Guarda, Luigi ti porta il cappellino. E ho detto adesso andiamo perché Luigi deve fare lo spettacolo, ricordami, quando viene la mamma faglilo vedere, diglielo. Allora lui mi ha fatto eh, così proprio, e dopo io ho incontrato la mamma e ho detto signora, ma Alessandro dice no, no, non parla, guardi che mi ha parlato. Mi ha fatto un cenno, dice ma guardi a me non è mai capitato, dopo un po' la mamma mi rincorre e mi dice signora, ma sa che mi ha fatto lo stesso gesto? Dice per la prima volta, perché i medici le avevano detto che il ragazzo non capiva, ho detto lei continua a stimolarlo, io sono andata tanto, tanto e ho continuato. Ecco insomma, e questo le ho incoraggiate molto di continuare perché lì ci sono tanti casi di tutti questi ragazzi con questi problemi. Vanno stimolati molto, stimolati in continuazione, dopo che ho finito la terapia io cominciare. Non c'è mai da rendersi, perché chi si ferma è perduto. Hai ragione, hai ragione Luigi, pensate che questo ragazzo nel suo libro scrive, mi sento il ragazzo più felice su questo angolo della terra. Mi sento sempre a quelli che non possono avere quello che ha avuto lui. Senti Luigi, tanto tu resti qua ancora per un po', no? Ma se io ti faccio salutare il tuo amorucchio, me lo regali il libro? Sì certo. Tanto lì hai due copie, lì sicuramente una era per me e una per Fabrizio. Ho indovinato anche questo? Come hai fatto il giornale? Ma questo è la massima. Salute il tuo amorucchio, dai di nuovo. Grazie, grazie, grazie. Un saluto anche carissima Fulvio De Nigris. Certo, certo. E lo ringrazio per il saluto. E dille cosa devi fare col libro, a te dico. Ah sì, lo presentate, vero? Lo presentate il libro. Lo presentiamo a Borogna, a Montatori e me lo presenta per congiunti. Alessandro Bertone, che tra l'altro lo saluta. Che è il testimone della casa dei rischi. Sì, è il professor Piperno con De Nigris e saranno presenti anche i registi, Alessandra e Stefano Masotti, che leggeranno dei brani del libro di cui loro dopo parleranno sul coma. Grazie Luigi, grazie. E farà la dedica. Mi fai la dedica dopo? Sì. Ho già l'hai fatta. I soldi non li voglio. Pure io la dedica però. Perché il figlio l'ha ricavato, va a tutta la casa dei rischi. E' devoluto tutto alla casa dei rischi. Alla casa dei rischi, Luca De Nigris. Sì, perché stanno facendo un grande lavoro. Sì, sì, è una struttura straordinaria. Veramente è una cosa indimenticabile. Non c'è neanche l'essere una struttura così. Cioè c'è, ma solo a pagamento statale come quella non c'è niente. Grandissimo Luigi. Abbiamo visto uno sguardo ammirato anche da, che ti arriva da Parigi, da Antonio Caprarica. Davvero? Sì, ammirato da molte cose, intanto da questa grandissima, straordinaria voglia e capacità di vivere. E poi assistevo veramente deliziato alle sue puntatine che rivelano un senso of humor assolutamente britannico. Grazie, 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 grazie tanto. Grazie. 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 Grazie.